La Virtus Basket ariano si riscatta a suon di canestri contro Catanzaro e riesce a scacciare la crisi che rischiava di colpire, soprattutto a livello psicologico, le ragazze di Cocciovini. Contro la squadra calabrese arriva la prima vittoria in tripla cifra per la squadra del Tricolle, che realizza il record di punti e surclassa letteralmente le avversarie, infliggendo un distacco siderale che legittima la presenza della squadra arianese nella corsa verso i play-off. Carattere, cuore e determinazione sono stati gli ingredienti di una gara mai in discussione, chiusa con il risultato finale di 102-46. La formazione di casa metteva subito le cose in chiaro, quando alla fine del primo quarto il tabellone faceva segnare il risultato di 28-11, un divario a cui cercava di rispondere Catanzaro nella seconda frazione, nella quale però la squadra arianese riusciva a dare la spallata già decisiva sulle sorti del match, andando a riposo sul 53-24. Al ritorno sul parquet le leonesse ritornavano con la stessa grinta mostrata nella prima metà della partita, concedendo alle avversarie solo 10 punti e realizzandone il doppio, 73-34, il punteggio sulla sirena del terzo segmento di gara. Lo strapotere della formazione di Jovini veniva definitivamente certificato nell'ultimo quarto dal parziale eloquente di 29-12, che determinava il punteggio finale di 102-46. Sugli scudi, e non poteva essere altrimenti, Moretti, con l'incredibile score personale di 41 punti, il capitano della Virtus si riscatta prontamente dalla prestazione opaca contro Benevento, accompagnata dal record di punti personali in stagione di Ferraretti, che ne realizza 27, e di Buglione, 14 per lei. Ha referto anche Monica Zanchiello con 7 punti, Pastore con 5, D'Agostino 4, Muscetta e D'Ambrosio 2. Il tour de force della squadra leanese si chiude per questa settimana con un'altra gara casalinga. Il prossimo impegno propone ancora una partita al palacardito, domenica alle ore 18.30, contro la corazzata Salerno. Impegno difficile, ma da affrontare, senza timori reverenziali.